Il plesso di via Lucania Paternò dell'Istituto Francesco Redi si è dotato di un depuratore di acqua. Si tratta del primo destinato all'uso degli studenti in una scuola sul territorio paternese. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza che ha visto la partecipazione degli alunni, gli interventi di esperti per parlare di salvaguardia ambientale e del contributo che i più giovani possono dare in quest'ottica. Questa è veramente una novità per il mondo della scuola su Paternò e che speriamo possa diventare anche buona prassi, che possa contagiare le altre realtà perché l'idea nasce appunto dal bisogno dei ragazzi di dare un contributo, di dare testimonianza della volontà di puntare alla tutela dell'ambiente, di puntare alla concretezza del principio della sostenibilità. E come agrario, perché il Francesco Redi ospita al suo interno tra le scuole associate un istituto agrario, i ragazzi sentivano il bisogno di diventare un po' apripista in questo settore, per cui da qui la richiesta di installare un depuratore che ci auguriamo non solo darà degli effetti concreti al punto di vista quantitativo, quindi riduzione della plastica, ma soprattutto potrà appunto promuovere stili di vita diversi e questo è il nostro compito, l'obiettivo in fondo rimane e non può che essere educativo. Abbiamo fatto questa scelta per installare nei nostri allievi, docenti e personale scolastico il seme di un cambiamento di vita, una conversione a scelte di vita più ecosostenibili. Che significato attribuiamo a questa iniziativa? L'eliminazione della plastica, lavorare sull'ambiente, facciamo spazi comuni tutti. Oggi la scuola saluta un bellissimo momento perché viene trasmesso questo messaggio e portato avanti attraverso i ragazzi. Il Comune sta facendo tanti sforzi, sapete che ha differenziato al 70% il progetto LIFE, che è un progetto europeo proprio per tutelare, per garantire l'ambiente, quindi questa sinergia è importante e questo messaggio che arriva dalle scuole e quindi trasmesso ai ragazzi che si proiettano nel nostro futuro diventa importantissimo. Infatti siamo qua proprio per testimoniare la presenza e la volontà di lavorare insieme per tutelare la nostra comunità ma tutelare il nostro pianeta.